Davide ci ritroviamo ancora una volta a sostenere quello che è la muvertenza degli APU Campania, in questo caso APU Cava dei Tirrini, APU Costiera Amalfitana. Oggi l'azione al centro per l'impiego della Costiera Amalfitana Cava dei Tirrini. Sì, oggi siamo ancora a parlare di APU, dei lavoratori di attività di pubblica utilità che in circa 2000 stanno chiedendo da tempo non solo di essere assunti nella pubblica amministrazione ma di continuare a lavorare come hanno fatto fino ad oggi, tenendo vive le nostre città e sopperendo alla mancanza di lavoratori che attanaglia purtroppo le nostre amministrazioni. Oggi siamo al centro per l'impiego perché la regione Campania deve darci delle risposte, deve darci delle risposte sulla gestione dei fondi pubblici per le politiche attive perché il Fondo Sociale Europeo di 300 milioni di euro è stato utilizzato per tanti progetti di cui non conosciamo nemmeno i dati. Le politiche attive dovrebbero servire all'inserimento nel mondo del lavoro, quindi o diamo un senso a queste politiche oppure rischia di essere soltanto un assistenzialismo alla merce delle peggiori clientele politiche. Un'azione dimostrativa coordinata anche con gli altri APU della Campania. Sì, un'azione dimostrativa nei comuni in cui gli APU sono attivi perché gli APU non solo stanno a Roma, vanno al Ministero nelle scorse settimane, al Parlamento per una trattativa in corso ma stanno anche nei comuni dove hanno svolto il proprio servizio. E quindi noi partiamo dai centri per l'impiego per mandare soprattutto un messaggio alla Regione, al Governatore De Luca che fa finta che gli APU non esistano, che fa finta di essersi dimenticato di aver indetto un bando a cui hanno risposto 2000 persone disoccupate di un territorio martoriato con centinaia di migliaia di disoccupati solo nella Regione Campania. E quindi noi oggi vogliamo dire che ci siamo e ci saremo finché per i lavoratori APU non ci sarà un futuro. Come detto prima hai accennato a quello che era il tavolo al Ministero dei giorni scorsi, avevate annunciato altre azioni dimostrative ma avevamo anche annunciato che a quel tavolo comunque ci poteva essere un nuovo incontro, non se ne è saputo nulla. Al momento il Governo è al lavoro sul decreto lavoro che sta uscendo in queste ore. Noi speriamo che le promesse di Di Maio abbiano seguito ma ciò nonostante non abbiamo imparato a fidarci purtroppo non sempre dei politici che ci hanno accolto. E quindi per questo noi continueremo la lotta a prescindere perché l'incontro al Ministero, noi stiamo continuando a inviare delle richieste anche da parte dei comuni per il Ministero del Lavoro, del Pubblico Impiego e del Tesoro. Ma nonostante questo noi aspettiamo le notizioni unità dal decreto lavoro e saremo comunque in prima linea per continuare questa battaglia. Quindi tenere alta la guardia. Assolutamente sì. Assolutamente sì.